Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi ci troviamo qua con una bella review con gameplay, infatti è uscito il faraone Elsharaoui, una carta che diciamo per i vecchiacci come me mi rimanda a vibes dei FIFA passati dove Elshara era un giocatore veramente devastante, uscito in una versione molto 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 interessante, quindi ho deciso di sbloccarla visto che l'ho pagata a 48k al prezzo dell'unico culibali che mi è servito per completare le sfide. Quindi ho detto perché no potrebbe tornarmi sicuramente utile, andiamo innanzitutto a vederci quella che è la carta con le varie statistiche eccetera eccetera e poi ho registrato delle clip che andiamo ad analizzare insieme per vedere i pro e i contro del buon Stefan perché c'è niente da fare, le review con gameplay sono 100x che però sono comunque diverse dalle preview sulle quali andiamo a fare semplicemente una panoramica generale stazza alla mano. Quindi senza perdere ulteriore tempo andiamo subito in game dove ci attende proprio il buon Elsharaoui, eccolo qua. Allora, 1,78 di giocatore per lui, normale normale, piede destro, 5 di skill e 4 di piede debole. Già da qui io direi tanta roba. Perché tanta roba? Perché è vero che Elshara si va a buttare nel calderone di quelli che sono tanti giocatori come esterni sinistri. Banalmente in Serie A penso a Insigne ma non c'è paragone tra i due. O comunque nel calderone degli esterni sinistri abbiamo Mané, abbiamo Rashford, Maxi Man, eccetera eccetera. Vabbè, Neymar non lo cito, però lo citeremo più avanti. E il buon Elsharaoui, rapporto qualità-prezzo, visto che dentro al club fondamentalmente carte le abbiamo tutti, per me si mette sia in tasca Rashford sia in tasca Mané. Rashford se lo mette in tasca perché, ve lo dirò più avanti, e Bané se lo mette in tasca per via della quinta skill. Quindi, secondo me, questo qui, anche in quella che è la giungla degli esterni sinistri, riesce a spiccare. Per quanto riguarda i parametri abbiamo velocità 93 con 92 di accelerazione e 94 di velocità scatto. Abbiamo finalizzazione 86 e 83 di potenza tiro, quindi potenza tiro che è alla Neymar. Finalizzazione che potrebbe essere un pelino migliore. Abbiamo poi un ottimo passaggio corto 85 e un passaggio lungo 73 che è discreto. Abbiamo 99 di agilità, equilibrio 90, reattività 87, dribbling 93, freddezza 84, tutti i parametri al top. Difatti, con il body type che ha, con l'imlattezza che ha e questa agilità andata ad essere accoppiata a quel 60 di forza, questo qua va sicuro che è agilissimo, agilissimo in game. Poi ve lo farò vedere. Per quanto riguarda poi i trait, solitamente non ve li mostro mai, ma in questo caso ci tengo perché quel tiro di precisione, il finesse shot, è un trait fondamentale per Elsha. Difatti, anche negli altri FIFA era proprio famoso per questi tiri a giro da lontano. E vi assicuro che li ho testati e sono veramente molto interessanti. Andremo poi a vedere con quelle che sono le clip che ho registrato come se la cava. Per quanto riguarda stile intesa che io consiglio, cacciatore, assolutamente cacciatore, vedete che io non lo utilizzo al momento lo stile intesa perché lo utilizzo da super sub, quindi tanta tanta roba. Vi dico, giudizio, spoiler, molto molto positivo. Giudizio molto molto positivo che vi vado a mostrare esattamente il motivo con quelle che sono le clip appunto che abbiamo registrato in live. Quindi eccoci qua. Come potete vedere, prima azione con Gullit che scarica proprio per Elsha Raoui. Una delle doti di questo Elsha Raoui è che tiene il pallone incollato, incollato ai piedi. Sia con i micromovimenti con l'analogico sinistro, sia con le skill, avete visto come ha fatto questo elastico tenendo la palla praticamente a un centimetro. Guardate qui, si gira elastico e poi tiro a giro che impensirisce leno, come vi avevo detto, questo tratto finesse shot che si fa sentire. Qui guardate ancora una volta, si gira alla perfezione, tacco tacco e guardate che saetta. Tiro pulitissimo da parte sua, veramente finalizza bene, soprattutto dentro l'area. Qui solo un miracolo di Lenoi ha detto di no. Quindi anche con la conclusione a me è piaciuto. Qui ancora una volta, palla dentro verso Elsha, un paio di numeri, ancora una volta movimento del portiere spostato. Ma vedete come con le skill la palla gli rimanga praticamente franco bollata, franco bollata, non ne vuole sapere di perderla. Veramente, veramente, tanta tanta roba. Questa è una delle cose che mi ha sorpreso di più. Qua ancora Gullit a fare lavoro a sporco. Elsha con il bridge. Guardate come prende campo bene col bridge. Si porta a spasso un po' tutta la difesa, poi qua vengo chiuso. Palla poi dentro ancora verso di lui. Buono il numero. Stuck. Tiro a giro all'angolino. Una cosa che ho notato è che veramente un clinical finisher, nell'ultimi metri, non sbaglia veramente quasi mai. Ha veramente un ottimo tiro. Sia di destro che di sinistro si sente il quattro piede debole. E veramente mi è piaciuto, mi è piaciuto tanto. Quell'83 potenza tiro non si sente all'interno dell'area di rigore. Sembra di più. Guardate ancora una volta. Qui brigiata a prendere campo in maniera perfetta e poi di sinistro va a finalizzare e a fulminare il portiere in uscita. Quindi veramente dentro l'area di rigore è letale. Se arriva alla conclusione è tanta tanta roba. Qui ancora una volta elastico, cambio di direzione, me ghi di spin, si gira su se stesso, 800 movimenti. Qui ancora una volta non mi ha preso la sola, se no avevo totalmente mandato al bar con questa serie di numeri. Qui guardate sulla fascia come prende bene campo, lancia nei mare e poi vanifica tutto. Però ancora una volta tanta tanta roba la giocata da parte di Elsha. E questo è quello di cui vi parlavo in precedenza, il tiro a giro. Guardate, io qui avrei potuto fare mille cose diverse, sarei potuto andare avanti eccetera eccetera. Invece no, con la sola lada, apparecchiare sul destro, lascio partire questo tiro a giro liftato che si va a insaccare. Quindi tanta roba, tiro a giro di destro che si fa sentire. Un'altra cosa è guardate come prende benissimo velocità con lo speed boost, quello fatto con l'L1. Guardate come rallenta per poi ripartire e lasciare sul posto l'avversario. Guardate, qui l'ho fatto due volte. Vado poi al limite dell'aria, un tacco tacco. Qui mi apparecchio ancora una volta il tiro a giro. Qua stavolta mi ha un po' lasciato in mezzo a Navia. Ve l'ho fatto vedere perché è giusto che andiamo a valutare pregi e difetti. Però diciamo che su 5 tiri me ne è segnati 3 a giro. Quindi è chiaro che se avesse segnato tutti i tiri sarebbe stato meglio di R9. Quindi ovviamente c'ha delle limitazioni, però molto molto consistente questa meccanica del tiro a giro con il buon Elcia. Qui ancora una volta a gestire palla cercavo il movimento di Escher che ho provato anche da punta. I ruoli in cui l'ho provato sono stati esterno destro, esterno sinistro e seconda punta. Punta singola no. Poi vi dirò a fine video quale è il ruolo che secondo me deve fare. Palla dentro, ancora una volta mi giro col drac. Guardate che sarà c'ha! Che bomba di sinistro dentro l'area! Non ne vuole sapere, non ne vuole sapere. Ha tirato una mina, ha tirato. Classica animazione che mi fa bampetto O di cose. Ha tirato una mina, ha tirato. Guardate ancora una volta con lo speed boost con l'L1 come se ne va via che è una bellezza. Guardate che agilità anche col dribbling con l'R1. Ancora una volta qua mi porto a spasso mezza difesa. Ancora una volta speed boost con l'L1. Cerco di entrare in area. Gran numero con l'elastico. Tacco, tacco, sinistro. Tiro che la palla era rimasta un pochino indietro. Però avete visto come la palla gli fosse rimasta franco bollata per tutta la durata dell'azione al piede e mi avesse poi portato alla conclusione in maniera impeccabile. Quindi tanta tanta roba. Tanta tanta roba per il buon El Sharawi. Per quanto mi riguarda il ruolo in cui l'ho preferito è quello di esterno-sinistro. Perché? Perché da esterno sfrutti la sua velocità, sfrutti la sua agilità, sfrutti il fatto di poter rientrare e calciare a giro con il piedone destro e comunque se si ritrova in area sul sinistro per tirare e incrociare segna. Quindi tanta roba. È agilissimo. Diciamo che come body type e agilità si può paragonare un po' a Nemaro, ovviamente senza blasfemie. Chiaramente non ha la quinta di piede debole che sarebbe stato un fattore veramente over the top, però comunque quel 4 di piede debole si sente ed è un 4 di piede debole vero che fa la sua parte. Per quanto riguarda stile intesa, come vi dicevo anche in precedenza, ci andrei a piazzare un cacciatore molto molto standard anche se ha già 93 di velocità, tranquillamente cacciatore. E devo dire che mi ha piacevolmente sorpreso. Sicuramente miglior esterno di serie A, ma anche se qualora lo volete andare a sbloccare per poterlo utilizzare da super sub come faccio io, è veramente super super consigliato. Vi ricordo che il giocatore di super sub alla panchina entra con 5 d'intesa, quindi è inutile che gli date lo stile perché a niente serve. Quindi veramente tanta tanta roba sorpreso da questo giocatore e ve lo straconsiglio, veramente ve lo straconsiglio perché mi è piaciuto un botto. E nulla ragazzi, per quanto riguarda questo video è tutto. Io vi ringrazio per la visione, fatemi sapere che ne pensate di Elsha, di questi video con review con il gameplay se li preferite. Lasciate un bel like che mi date una mano, iscrivetevi al canale che stiamo andando una bomba, in descrizione trovate tutte le info per quelle che sono le live giornaliere sulla piattaforma viola. E nulla ragazzi, a me non resta altro che salutarvi, augurarvi una buona giornata, un salutone dal vostro Riberoski. Ciao ciao!